buongiorno benvenuti a questa video analisi del 22 aprile 2016 video analisi che potete ricevere gratis via email o direttamente sul canale pubblico telegram come fare molto semplice basta passare col mouse sopra il video se siete su pc toccate il vostro schermo se invece sul dispositivo mobile o tablet per vedere apparire sopra la mia testa la lettera i di imola cliccando sulla lettera i esce un'altra compare un'altra striscia vedete con link che vi riporta al mio sito internet scusate e quindi per ricevere tutto gratis direttamente la nostra casella di posta elettronica c'è già qualcuno che mi guarda alla mia destra mister mario draghi che ieri dalle 14 e 30 ha avuto modo di esternare fare un resoconto di tutta quella che è stata fino adesso la politica monetaria della bce non c'erano nuovi elementi di cui parlare ha escluso l'helicopter money ovvero buttare lanciare soldi da un elicottero direttamente ai privati visto che il canale trasmissione della liquidità attraverso le banche si è inceppato da si inceppa anzi da oramai diverso tempo e quindi non l'ha escluso però attenzione ha detto non ne abbiamo parlato però non ha detto non ci stiamo pensando non lo faremo quindi una finestra l'ha lasciata aperta helicopter money che poi ovviamente dovrà comunque studiare la formula migliore secondo quella che è la normativa europea ha rispedito al mittente le accuse dal ministro schäuble tedesco che gli aveva detto per colpa della bce della politica monetaria della bce in germania i partiti anti immigrati hanno ottenuto il successo mai accaduto prima un attacco così diretto alla bce e ieri mario draghi ha detto che noi portiamo avanti dei progetti che hanno come scopo quello di favorire l'unione europea insieme non politiche per la germania siamo quindi obbediamo alle regole normative ma non ai politici insomma davvero andato giù pesante nonostante si fossero già chiariti nei giorni scorsi quindi mario draghi ha voluto ci ha tenuto e giustamente anche a evidenziare quella che l'indipendenza ha detto il board è stato unanime a difendere quindi praticamente ha voluto includere già l'aveva fatto pubblicamente il governatore della bundesbank la banca centrale tedesca quindi draghi che ha mostrato ancora una volta i muscoli ha detto c'è una preoccupazione è lì l'anello debole punto debole quello lì che per quanto riguarda l'inflazione europea che probabilmente resterà ancora negativa quindi ricordiamoci quando appariranno ci saranno i prossimi dati cpi inflazione che forse perché oramai lui è una speranza visto che tuttora i dati reali sono veramente tristi da quel punto di vista ha detto forse nel secondo semestre potremo vedere qualcosa un miglioramento un rialzo di questa inflazione la situazione internazionale petrolio emergenti influisce anche ovviamente sull'andamento della economia europea quindi questo per quanto riguarda draghi ma ci sono tante cose interessanti oggi intanto comincio salutiamo il nostro caro governatore della bce ho preparato il grafico a un minuto candele normali non aikinashi candlestick giapponese giusto per far vedere come solitamente faccio dopo un appuntamento importante come quello di ieri non c'è stato un volatilità alle stelle però qualcosina si è visto vi faccio vedere appunto partendo da grafico un minuto quindi ogni barra corrisponde un minuto dalle 13 e 44 un minuto prima l'annuncio del bce 13 45 il comunicato ufficiale viene pubblicato a quell'ora lì che quando è stato detto nulla nessuna novità e poi dalle 14 e 30 quando comincia a parlare mario draghi metto in primo piano il grafico così potete apprezzare ancora meglio quindi qui infatti se io lascio il mouse sopra la candela sotto vedete 13 e 44 quindi subito l'annuncio ecco c'è stato uno strappo rialzista fino arrivare 14 e 30 da qui in poi quindi dalle 13 e 45 il successivo momento successivo all'annuncio l'euro strappato fino a un massimo 1 13 e 64 una flessione e da qui comincia a parlare mario draghi la conferenza stampa di mario draghi ecco eccolo qui alle 14 e 44 lo spike come si usa chiamare lo strappo rialzista con un massimo vedete proprio 1 13 99 non so se riuscite a leggere dalla finestra dati ma quello è stato il punto più alto toccato dalla nostra moneta nei confronti di quella americana e poi vedete viene tutto giù scendiamo praticamente 100 pips da qui a qui sono una figura 100 pips e poi il trend tutto il resto del trend che resta poi vedete sotto 1 e 13 ma a questo punto posso togliere il grafico candele un minuto e vedere il daily quello più decisamente importante almeno quello che uso per questo tipo di analisi vedete che adesso dopo questo meeting della bce tutto resta impostato ancora al ribasso per la nostra moneta ma dicevo prima attenzione perché si sta muovendo qualcosa di importante interessante sulle cosiddette commodity currency ovvero i cross le valute che seguono da vicino per interessi diretti o indiretti diretti perché come il canadese che è paese produttore di petrolio o indirettamente perché hanno a che fare sono dipendenti dalle materie prime come l'australia neozelanda si cominciano a vedere delle cose interessanti già confermate quindi è da vedere immediatamente la candela rossa ai kinashi sul parlo di neozelandese contro dollaro il famoso cosiddetto kiwi sulla resistenza 0 70 31 ora come ora il prossimo livello da monitorare è qui in area 0 64 praticamente 63 96 da dove a sua volta adesso siamo tornati ai grafici ai kinashi attenzione dove da qui era partito questo strappo rialzista quindi 0 70 31 se andiamo a estendere indietro nel tempo giusto per vedere la forza di questo segnale decisamente in passato sono accadute delle cose interessanti da quelle parti lì in area 0 70 31 un altro cross dove c'è nzd e riguarda anche l'euro perché eur nzd si è formata si è chiusa quindi la speculazione a ribasso il movimento a ribasso partito con la candela rossa dello scorso 11 aprile sulla resistenza 1 e 68 il minimo è stato toccato lo scorso 19 aprile proprio pari preciso a 1 e 61 candela verde non ho dovuto fare l'analisi perché già da qui c'era già fatta praticamente la candela verde sul resist supporto di resistenza in area 1 e 61 e 43 per la precisione insomma comunque zona 1 61 e 50 vedremo non è detto che è scontato che accadrà quanto visto già qui con questo rimbalzo fino a 1 68 e siamo tornati giù ora come ora le impostazioni per quanto riguarda questo grafico dicono che potrebbe rimbalzare euro contro neozelandese questo perché potrebbe avvenire per effetto di un indebolimento maggiore perché abbiamo visto neozelandese contro il dollaro c'è la candela rossa vuol dire che qui almeno graficamente parlando potrebbe il neozelandese perdere terreno potrebbero deprezzarsi nei confronti della moneta americana qui viene giù perché nzd è davanti il primo nella coppia invece eur nzd è il secondo quindi se eur nzd sale vuol dire che l'euro sta guadagnando terreno nei confronti del neozelandese potrebbe anche avvenire perché nzd scende in maniera maggiore una forza maggiore relativa maggiore rispetto all'euro che magari può anche rimanere piatto l'euro come valuta in sé contro tutto il resto del mondo euro dollar tutto il resto insomma le altre combinazioni possibili ma per effetto di un neozelandese che viene giù eur nzd la forza di gravità in questo caso vedrebbe spingere al rialzo per quelle che sono le correlazioni forex il cross eur nzd quindi si combinano ma ci sono tanti potenziali segnali poi il cugino parente di casa del neozelandese è l'australiano che a sua volta però qui ancora in attesa di conferma eccola lì in alto a destra la candela rossa ai kinashi qui però non è ancora definita bisogna aspettare la fine dell'ottava a questo punto il forex non chiude mai apre domenica sera chiude a chiudere venerdì sera quindi se andrà a concludersi la settimana con questa impostazione ho detto quindi commodity currency australiano neozelandese vi faccio vedere anche gli usd cad dove fa capolino una nuova candela verde un po come si era già visto qui quella di lunedì scorso post meeting che c'è stato domenica scorsa produttori e non produttori opec guardate sempre la dinamica tutta del grafico che dove si vede benissimo che le candele verdi non è che tranne qui insomma non è che abbiano avuto grande un tanto succe così tanto successo quindi però anche vero che gli usd cad se sale vuol dire che potrebbe venire giù il petrolio così come se australiano la correlazione perché la correlazione negativa così come se australiano neozelandese vengono giù la correlazione lì è positiva con il petrolio se poi il petrolio assolta va a confermare almeno i vari tasselli delle correlazioni intermarket confermano questa possibile confermano questo possibile 30 però ricordate che a questo punto chiuso il capitolo bce adesso il mercato è proiettato al meeting della federal reserve che ci sarà la settimana prossima attenzione in giappone so che molti di voi fanno trading seguono molto da vicino le evoluzioni dei crambi contro yen oggi faccio vedere il grafico del dollaro yen c'è stato uno strappo praticamente un nuovo massimo da quando è partita questa inversione e chi nasce a rialzo con la candela verde del 13 scorso 13 aprile toccato un massimo a 110 75 adesso siamo a 110 e 52 che cosa è successo è arrivata la notizia di una possibile manovra da parte della banca centrale del giappone che sta cercando in tutti i modi di riportare il cambio in alto per indebolire la propria moneta una sorta adesso non vado non entro dentro il tecnicismo di questa manovra praticamente molto simile a quella che ha fatto che sta facendo draghi ovvero prestare alle banche pagando alle banche pur di ricevere questi prestiti secondo delle formule un piano ripeto abbastanza complicato da spiegare anch'io personalmente non è che l'ho capito bene tutto quindi praticamente iniettare nuova una nuova forma che sta studiando il governo della banca giappone perché oramai questi governatori kuroda ma anche draghi insomma si trovano una situazione storicamente nuova sono storicamente nuove tassi di interesse negativi e storicamente non è mai successo prima quindi stanno cercando adesso tentativi di trovare delle soluzioni per far risalire l'inflazione per mettere liquidità insomma per far ripartire il ciclo economico la moneta ha apprezzato per il momento il dollaro yen è salito quindi ha risposto positivamente a quello che era l'auspicio del governatore e tutta la banca centrale del giappone quindi chissà candela verde per il momento sul supporto 108 e 04 graficamente c'è spazio per una salita anche qui 113 114 50 ma fino a quando non compare la candela rossa e chi nasce tutto resta confermato decisamente al rialzo bene si chiude così questa video analisi anche la settimana quindi colgo l'occasione per farvi i miei più cari auguri di buon weekend appuntamento a lunedì grazie arrivederci grazie a tutti grazie a tutti